Il Consiglio regionale ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza e contrari dell'opposizione la legge di manutenzione regionale 2022, che interviene su 15 leggi regionali che riguardano vari ambiti, come le norme sulla bonifica dei rifiuti e dei siti inquinati sul servizio sanitario regionale, il testo unico del personale, la legge urbanistica e il codice del commercio. Il Consiglio regionale, come ogni anno, ha votato la sua legge di manutenzione dell'ordinamento regionale, un'occasione per fare ordine nella vasta quantità di produzioni normative del Consiglio regionale della Toscana, che ha sancito tutta una serie di interventi all'incirca per quasi 70 articoli, che sono andati a risistemare molte delle disposizioni presenti nel nostro ordinamento. La proposta di legge che è stata presentata in Consiglio regionale è il frutto di un'intensa attività della prima Commissione del Consiglio, che tenendo conto di tutti i rilievi formulati e anche dei pareri espressi dalle altre commissioni, ha deciso di espungere tutti quegli elementi che all'interno di questa legge presentavano carattere innovativo e non meramente manutentivo per preservare il contenuto della legge a quelle che sono le prescrizioni che discendono dalla legge istitutiva della legge di manutenzione. Consideriamo innanzitutto che siamo stati per circa un mese a trattare di questo argomento in Commissione e non si è mai visto chi ha la delega al bilancio e gli affari istituzionali. Il Gianni non l'abbiamo assolutamente visto in Commissione. Non solo, presenta una serie di emendamenti quando comincia il Consiglio regionale. Peraltro a uno di questi emendamenti non è presente neanche lui, che è l'unico sottoscrittore e quindi inevitabilmente l'emendamento dei Cade. Noi siamo stati a verificare puntualmente il contenuto della proposta di legge di manutenzione proprio perché riteniamo un appuntamento importante dell'anno. Abbiamo espresso tutte le nostre perplessità per quanto riguarda la parte sanitaria, ma anche per quanto riguarda VAS e via, i procedimenti che si riducono dei tempi quando il personale invece resta sempre lo stesso e ha delle conseguenze, tutto questo anche sui procedimenti partecipativi. Invece arriva il Gianni che lui stesso vota contro un nostro emendamento, così come tutta la sua maggioranza, probabilmente senza averlo neppure eletto. Cosa diceva il nostro emendamento? Di adeguare la normativa regionale alla normativa nazionale in materia di onere di urbanizzazione perché soltanto nella normativa nazionale, non quella regionale, e qui inevitabilmente c'è della confusione, è prevista una riduzione di almeno il 20% per gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi di ristrutturazione. Quindi questa sollecitazione che veniva da numerose amministrazioni di vario colore, ma anche da diversi cittadini, purtroppo decade. Ed è tutta colpa del governatore. Quindi uno stato confusionario di una maggioranza che addirittura in commissione ha votato contro alcuni esponenti, ne ha proprio alcune disposizioni e inevitabilmente sono stati ripresentati sotto forma di emendamento in aula. Uno stato confusionario incerto e ne risentono soprattutto i cittadini toscani. Sì, un atto dovuto che il Consiglio regionale approva a metà della propria annualità è la norma che ci consente di integrare iniziative che sono previste a livello nazionale con quelle che sono previste a livello regionale. Avendo due livelli di legislazione, molte volte capita che nello sviluppare delle leggi servono dei correttivi e in questo caso sono serviti soprattutto per migliorare alcuni aspetti legislativi che torneranno utili alla regione toscana a partire da settembre, quando nella ripresa ci sarà da dare delle risposte importanti, soprattutto sul caro bollette, sull'inflazione e soprattutto sulla svolta di carattere energetico. L'ultimo dei settimane abbiamo visto su una legge di manutenzione che per chi non è un addetto ai lavori è una legge normalissima in cui si va soltanto ad adeguare la normativa regionale alle normative nazionali ed europee che nel frattempo sono cambiate, il Partito Democratico è riuscito ad andare sotto nei numeri nove volte. Cioè nove volte gli articoli sono saltati perché i consiglieri del Partito Democratico non erano in aula, non perché chissà cosa, perché non erano in aula, otto volte, sette volte in commissione, due volte in consiglio regionale, tra cui una volta l'assente era il Presidente Gianni che aveva presentato emendamenti e poi non è venuto a presentare in aula e quindi viviamo in questo caos. In questo caos è da registrare anche per l'ennesima volta, perché è la seconda, che l'assessore Monni arriva in aula per farci una comunicazione, tra l'altro una comunicazione pretendeva di aprire un dibattito sul CHEU e noi abbiamo fatto gentilmente notare all'assessore Monni che il Consiglio scorso era stato monopolizzato da un dibattito sul CHEU e sull'ambiente e lei da assessore all'ambiente non c'era in aula. È arrivata ieri, pretendeva di fare una risposta a 15 giorni di distanza, ha sbagliato i tempi di presentazione della comunicazione, è arrivata troppo tardi in aula, gliel'abbiamo fatto notare, lei è andata a casa e nessuno del Partito Democratico ha difeso questo assessore. A questo punto ci chiediamo se sia ancora o meno l'assessore di riferimento del Partito Democratico, cioè il Partito Democratico crede ancora che Monni a Monni possa fare assessore all'ambiente, visto che ogni volta arriva in aula a proporre una comunicazione viene rimandata a casa senza che nessuno alzi un dito. Ci sembra un gran caos. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2021 dell'Istituto regionale per la programmazione economica, via libera maggioranza anche a una risoluzione a integrazione degli indirizzi definitivi per l'elaborazione del programma di attività dell'anno 2022. L'esercizio 2021 si chiude con un utile che supera i 500.000 euro con un incremento del 12,3% rispetto all'utile dell'anno precedente. È stato inoltre approvato all'unanimità un ordine del giorno che prevede la restituzione da parte di IRPET alla Regione di una cifra superiore a 2 milioni di euro frutto dell'accumulo dell'avanzo annuale e che da qui in poi venga assicurato a IRPET il mantenimento di una cifra non superiore al doppio del fondo di dotazione circa 350.000 euro. I 2 milioni rientrati nel bilancio regionale dovranno essere destinati a progetti in ambito sanitario, sociale e culturale. Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. Bilancio che registra un utile di oltre 500.000 euro. Si tratta di una cifra significativa che viene dal fatto che ci sono state una serie di economie nel corso dell'annualità 2021 in IRPET. Economie che sono derivate dai minori costi che si sono sostenuti a livello di personale sia per quanto riguarda la figura del direttore che per quanto riguarda due dirigenti sia minori costi che derivano dal Covid e dallo sviluppo del lavoro agile. Questo ha consentito quindi un utile di 500.000 euro che come previsto dalla legge istitutiva dell'IRPET viene trattenuto per 100.000 euro quindi il 20% al fondo di riserva per la copertura di perdite future e l'altro 80% quindi 400.000 euro viene restituita alla Regione Toscana che come sappiamo è l'ente che contribuisce al finanziamento non soltanto delle attività istituzionali ma anche delle attività comuni di IRPET. Il documento prevede che dei quasi 3 milioni di liquidità che abbiamo appreso essere nelle disponibilità di IRPET IRPET ha nei propri conti correnti 3 milioni di liquidità. Questi 3 milioni sono investiti nei vari conti correnti e fruttano a IRPET 27 euro all'anno di interessi. Crediamo che non sia il caso di tenere immobilizzati 3 milioni di euro per guadagnare 27 euro all'anno di interessi quindi abbiamo chiesto che 2 milioni di questi 3 in pratica lasciando nei conti di IRPET i soldi che servono per la gestione ordinaria dell'azienda per pagare i dipendenti per pagare i fornitori ma 2 milioni vengono restituiti alla Regione Toscana e destinati a progetti in ambito sanitario sociale e culturale. Per fortuna questo documento è stato approvato da tutte le forze politiche. Un bilancio che viene approvato con il sostegno della maggioranza di un istituto molto importante. Fare oggi programmazione economica è per noi fondamentale a supporto delle decisioni che dobbiamo assumere soprattutto nel contesto come quello attuale che vede diciamo la Toscana che ancora si muove a macchia di leopardo rispetto allo sviluppo economico rispetto alla ripresa rispetto alle infrastrutture e c'è da comprendere e capire bene come le risorse che a livello comunitario verranno trasmesse in Toscana vengono utilizzate nei territori sarà un lavoro propedeutico fondamentale per definire il piano regionale di sviluppo che per nostro avviso in termini politici a settembre deve essere approvato prima ancora della definizione del prossimo DEF perché lì ci giochiamo gran parte delle risorse comunitarie dei prossimi anni. presentato a Palazzo del Pegaso il nuovo consiglio di amministrazione di fondazione Sistema Toscana che in conferenza stampa ha delineato le strategie per promuovere l'economia creativa e l'identità culturale dei territori l'obiettivo della fondazione è infatti quello di affiancare le istituzioni regionali nel racconto di beni e valori materiali e immateriali attraverso gli strumenti della comunicazione digitale evoluta. La presentazione del nuovo consiglio di amministrazione che ha un mandato quinquennale la fondazione non nasce con noi quindi noi raccogliamo un'eredità già consolidata per quanto mi riguarda doppiamente essendo io il presidente uscente e quindi non posso fingere di non conoscere la struttura e la fondazione dicevo raccogliamo un'eredità che è un fattore ormai consolidato nelle politiche regionali la fondazione è il depositario il braccio operativo lo snodo che riesce a portare a terra numerosi aspetti elementi delle politiche regionali e della programmazione regionale nel settore latamente inteso della cultura poi viene declinato in numerosissimi affluenti è un compito che ci deriva dal nostro essere fondazione che opera in regime di house providing che è un tecnicismo per dire che la nostra relazione con la regione con tutta la regione è una relazione bidirezionale c'è un rapporto e un affinamento tecnico organizzativo gestionale particolarmente strutturato di questo ovviamente il consiglio di amministrazione è particolarmente orgoglioso ma al tempo stesso onerato perché si tratta di recepire e riprodurre indirizzi che stanno fuori dalla dimensione operativa della fondazione e che sono poi calati nella nostra appunto fase operativa attuativa e annualmente vengono sottoposti a scrematura a vaglio non è un intervento un atantum che poi si traduce in interventi minuti ma c'è un raccordo costante continuo con tutta la regione toscana con la giunta in particolare ma anche con il consiglio regionale che vuol dire tradurre in politiche attive sul territorio tutta la dimensione dell'economia creativa ecco potremmo chiamarla così che in toscana ha diciamo una sede di elezione per ragioni storiche culturali appunto ma anche di scommessa di investimento che su questi temi è stato fatto e noi ne siamo in qualche misura la testimonianza attiva è una fondazione che a mio giudizio deve costituire il perno dell'identità della toscana tutto ciò che significa valorizzare l'identità della toscana da un punto di vista sociale da un punto di vista storico culturale di relazioni di promozione turistica passa attraverso una fondazione che utilizza le più innovative moderne tecnologie per questo tipo di messaggio ecco quindi che il prossimo consiglio d'amministrazione guidato all'insegna della comunità della continuità da Jacopo Di Passio dovrà cercare di approfondire un po' tutte le caratteristiche perché i messaggi gli input che noi potremo dare come governo della regione possano tradursi nell'utilizzo delle tecnologie delle capacità di relazioni dei contenuti che diano il senso di questa regione che è l'unica che a livello internazionale ha anche un nome inglese Tascani non ce l'hanno le altre regioni italiane salvo le due isole proprio per conformazione geografica che possa valorizzare quelli che sono i tratti per cui è così attrattiva la nostra regione che possa veicolare un messaggio di toscanità e anche se vogliamo in modo lo dico abbattuta ma con il senso giusto di ironia che Curse Malaparte definiva dei maledetti toscani per noi è davvero importante importante per la giunta importante per il consiglio il lavoro che sta portando avanti Fondazione Sistema Toscana consentitemi di ringraziare chi in questi anni ha dato il proprio contributo di fare un grande in bocca al lupo al presidente di Passio al vicepresidente Colicelli a tutti i membri del CDA il lavoro di Fondazione Sistema Toscana è importante da un lato per rappresentare raccontare la nostra identità e dall'altro per noi per il consiglio regionale con cui è nata dallo scorso anno una collaborazione importante è stata fondamentale per realizzare quel processo di digitalizzazione che abbiamo voluto mettere in atto per fare di questo luogo la casa delle toscane e dei toscani un luogo accessibile in cui ognuno può accedere a tutte le informazioni per creare trasparenza se oggi siamo in questa splendida sala dedicata a David Sassoli lo dobbiamo al lavoro di Fondazione Sistema Toscana oltre degli uffici del consiglio regionale e poi tante le iniziative fatte insieme dai 700 anni di Dante Alighieri alle feste della Toscana alla festa dell'Europa insomma una collaborazione tesa a sviluppare le iniziative del consiglio regionale e far conoscere al meglio le qualità che il nostro territorio propone insomma un ruolo importante che deve essere ancora di più valorizzato